Musica Ciao a tutti da Jota e bentornati sul canale Oggi proveremo Project WONDERBUFF Che penso Tradotto con Appositi mezzi che conosciamo tutti Significa Arma miracolosa Arma bellica super figa Comunque sia Option Ho già abbassato come avete visto l'audio Perché era Immenso Immensamente Troppo sulle mie cuffie C'è l'italiano signori C'è l'italiano E Impostazioni di uscita Va bene In italiano un po' strano Nuovo Carica il gioco Esci Gioco Opzioni Classifiche Nuovo gioco Come tutti Ben sappiate Questa è una preview Che diventerà una serie Su questo gioco E È la prima volta che Lo gioco E non ho Mai visto sto gioco Prima d'ora Cioè Ringrazio gli sviluppatori Per avermelo dato E Lo proviamo Subito Che bello Questa cosa qua Il trenino Ti diamo il benvenuto Alla base Ti è appena stata data L'opportunità di sviluppare Una Wunderwaff Un grande Complesso Sotterraneo Destinato a essere Una fortezza Invincibile Sarà impossibile Da costruire Senza di te Costruisci la tua base E tieni presente Che stai cercando Creando un'arma In grado di influenzare L'esito della guerra Succeso Succeso Gestione della base Controlla la marcia Del nemico E risparmia tempo Per completare il progetto Utilizzare le risorse Delle linee di produzione Di altre strutture specializzate I depositi Si trovano a varie profondità Si deve scavare Nelle aree di ripiegamento Cerca carbone Minerali Minerali di rame Pietra Uranio E oro E oro Mentre ti sposti Nel sottosuolo Succeso Guarda il menu in alto Vi troverai le informazioni principali Della tua base Tempo rimanente Numero dei giorni Di giorni rimanenti Prima di un attacco La tua base Passa il puntatore Sul tempo rimanente Per vedere Quanto è vicino Il nemico Numero di lavoratori Nella base Era in possesso Di lingotti d'oro Era Va bene Stato attuale Delle conoscenze scientifiche Vabbè Consumo elettricità Consumo dell'acqua Non manca il cibo Prossimo trasporto Tempo mancante Al prossimo Trasporto di risorse Per sapere Quali risorse Saranno consegnate Dal magazzino Ho perso il curso Ok Succeso Ah Apprendi Questo è il tutorial Tutto il tutorial Si basa su queste 3-4 schermate E poi abbiamo finito Non male B L Accendi Spegni torcia Più Avanti Lontano Aiuto Centro di comando Ricerca Ingrondisce Lontana Selezione Ok Inizia a costruire Le risorse necessarie Per iniziare a costruire Si trovano nel magazzino iniziale Assicurati che la base Abbia l'energia Sufficiente L'acqua e l'elettricità Vengono fornite nella stanza Attraverso gallerie e sensori Anche le risorse Vengono trasportate e posizionano una pompa dell'acqua e un generatore di energia Il tempo sta per scadere Dipende tutto da te Esci e premi B Una prima cosa Leggibile Il fonte è perfetto Non ho avuto Ma che cacchio sono il buio Ma è tutto buio però Forse ho abbassato troppo del luminosity B Forse è un po' troppo buio Aspettate un attimo Opzioni Grafica Si può luminosità un po' di più? Ah eccola qua Perché? Mi sembra Eh Già è un po' meglio Era un po' troppo buio Ok Uh che bello Signora diamo un'occhiata prima di tutto Alla grafica Questo secondo me È da dove arriva il treno Ma si esce fuori Ma che figo Però Sono andato tutto a destra Ma adesso Eh Aspettate un attimo Perché non mi va più di là Più a destra Allora Modalità di gioco Scorrimento bordi Che è selezionato Grafica Audio Ok Impostazione Applica le modifiche 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 E B Tutti Ok Ah ok Col tasto destro Si va A destra Perfetto Oh ma è bello Oh ma è bello grande Comunque Io faccio così Ok Però strano Ah ecco Adesso funziona Vabbè Forse ho capito Allora Costruiamo Non so cosa costruire all'inizio Tra l'altro Infrastrutture Galleria Questo è il tuo strumento di trasporto Pensaci bene Le gallerie possono essere costruite orizzontalmente Gallerie Gallerie ascensori Possono incrociarsi Ascensori Pompa dell'acqua Ma io posso costruire Hai capito Cioè se io facessi No Pompa dell'acqua Cosa vuol dire Pompa dell'acqua Allora proviamo Io veramente Qua Fatto Hai appena installato La vostra pompa dell'acqua Ricorda di tenere sotto controllo Il consumo dell'acqua Sulla base Ora occupati Dell'alimentazione elettrica E imposto il generatore Ah ok Costruire Alimentazione elettrica Wunderwaff Non c'è Produzione Ok Quindi Generatore di energia Non posso mettere qua No Ah è tutto Qua Questa è la tua prima macchina di alimentazione La richiesta di energia dell'acqua Aumenterà con l'espansione del lato base Se vuoi dominare Su tutti i fronti E sappiamo che lo vuoi Devi costruire un centro di comando Perfetto Quindi Ah Ma è più piccolino Ma che figata Io pensavo fosse un gadget Guarda c'è la persona che lavora Guardi A colpi di martell Così A colpi di mazzola Come? Allora B Devo cambiare sto B Non si può? Centro di comando Non posso metterlo qua? No Questo? Ah è la mia guardia Ottimo Centro di comando Sempre di qua Ok Questo è il tuo centro di comando Ci può essere un solo centro di comando Della base La panoramica delle risorse È completamente integrata Con l'intera base Invia al fronte Mostra i dettagli delle risorse E una volta inviate al fronte Forniscono benefici delle truppe È tempo di crescere Costruisci un centro di ricerca E sviluppa nuove tecnologie Fai del tuo meglio Per completare il tuo progetto Wunderbuff Vediamo il centro di comando Allora Questa è l'energia Ah vedi Rimuovi Consumo risorse Consuma acqua Quindi lui consuma acqua Lui consuma 5 kilowatt Qua c'è l'interruttore Ah ok Perfetto Bello la luce rossa Che Beh gli effetti sono carini Perché spegne tutto E accende Ok Però non so quanto sto facendo Il tempo di trasporto successivo Un minuto e cinquanta Più novanta C'ho mille di energia E acqua ottocento Che faccio più novantotto Ok Questo è il centro di Uh Aspetta Vabbè Ah è bellino però Il ventilatore Il ventilatore Ok Cosa posso fare Parlamiche delle risorse Centro di comando Il mappo della guerra Legno Razioni Acqua Ah Invia al fronte Cosa vuol dire Cemento Ottieni più giorni Le mando io Il cemento Cioè non l'ho capito Ottieni più giorni Ah ok Va bene Poi Allora raggiunti Il livello 1 Perfetto Costruire Costruire Centro di comando E accanto al centro di comando Peccato che non si possa costruire Tipo qua sopra Quindi questo spazio qua Forse potevo No No Non si può Qua Ottimo lavoro Gli scienziati Attendono ordini Combatte il nemico Con le armi più letali Che puoi creare L'albero della tecnologia Si trova esattamente qui Inizia il tuo progetto Wunderwof Nella base Può esserci Un solo centro di ricerca Buona fortuna Ok Quindi è gigante B Trimestri Intelligenza Centro di comando Centro di ricerca Si può costruire tanto Allora Vediamo un attimo Allora Intanto Si potrebbe fare Teogome allo zoo comunale Io posso fare un ascensore qua Quindi da qua passano qua Vediamo Oro Energia Che cazzo Sta arrivando un treno Oh è arrivato un treno Che figo Che sta succedendo Mi ha ricaricato le risorse Vedi il treno Figo il treno Mi piace Sta scaricando No In realtà Scarica Che figata E questo è il nostro resource Oro Risorse Ok Quindi io se voglio mettere questo Ho bisogno di questo Allora Dovrei fare una Gallerie Ma se io faccio Una galleria Tipo Devo fare una galleria Qua Cioè se io adesso Questo è Cioè Facciamo un test No Cioè Se io rimuovo Ok Metto Questo Qua E poi Qui Ci vado a mettere Questo È un po' meglio Eh Così almeno C'è questo Questo che scendono Questo lo rimuoviamo Sì lo so che ho fatto Tutto a Tempuria Però Secondo me È meglio così Il centro di comando Si può rimuovere No Centro di comando Non si può più rimuovere Quindi Questi qua Sono Fissi Quindi qua Sì questi due Sono così Questo va su E qua facciamo così Perfetto Ok Centro di ricerca Progetto Wunderwaff Minatore Ah Ah Proprio questo Cerchiamo già Dubito Wunderwaff Ok Cercato Che cosa Mi ha sbloccato Minatore Spaccio di stoccaggio Produzione Alloggi Scienza Allora Iniziamo con gli alloggi C'ho 0 kg Quindi rame Serve il rame Facciamo questo È veloce però La ricerca Sono un po' troppo Quindi poi qua Continueremo con L'acqua E energia E qua sotto Invece facciamo questo Ok Adesso dovremmo avere Sbloccato Sbloccato Se è affamato Risorse Non le puoi ottenere Se non le estrai Ok Quindi Sarà in produzione Scorrimento bordi Mi ha un po' Dato fastidio Ecco fatto Riprendi Gio A A Ok B Galleria Ascensore Materiali Insufficienti Per la costruzione Pompa dell'acqua Minerali Insufficienti Per la costruzione Generatore Perché L'ho consumati Tutti C'è un problema Che non capisco Ah Questa Miniera Devo sbloccare Ah quindi Devo sbloccare Sia Il minatore Che la miniera Ok Ascenso E questo diventa Un po' Più lento E poi c'è Abbiamo la metallurgia Ah E progressittuali Potremmo fare Un po' più grande Ah C'abbiamo la miniera E infatti Ha sbloccato la miniera Hai trovato le risorse Ottimo lavoro Estraile Questo qui Lo farei di qua Come funziona la miniera? Una miniera estrae risorse Da ogni casella Della griglia Su cui è posizionata Se una miniera Viene costruita Su più giacimenti Allo stesso tempo Allo stesso tempo Come il minerale Di ferro E le pietre E' possibile gestire L'ordine di scavo Del wicked miniera Pianifica la posizione dei minieri In modo che Il lavoro Sia più efficace Possibile Segnare ai lavoratori E iniziare La ristrazione Io l'ho messa Proprio a cavolo Perché non vedevo Cioè Non vedevo assolutamente Nulla Quindi Quante persone C'ho? 20 E buttiamo Tutti a minare Cioè Poracci Potevo fare un po' Più di ascensore Forse La miniera Potevo farla Un po' Più in basso Va bene Aggiorna Rimuovi Velocità di scavo Ok No Come faccio A segnare Le persone Nuova risorsa Per scavare Nessuna risorsa Per scavare Ok Come faccio A dirgli Spazio di stoccaggio Risorse Questo Dovevo cercare Tutto Dove cercare Cercare tutto Tipo questo Carbone Produzione Alloggi Shienz Il motore Il principale motore Della tua forza E della produzione E fabbrica Del cemento Oreo 10 kg Magazzino C'è un magazzino Non lo posso fare Metallurgia Celialloggi Però non ho capito Come Adesso Ah forse Dal centro Qua No Questo No 1 2 E 3 Come faccio A dirgli Questo è Aggiorno Questo è Rimuovi Come faccio A dirgli Butta persone qua Non c'è Butta persone qua Forse devo selezionare Gli omini No Signori Ehm Ogni tanto il WSD Se ne va un po' A patate Rimuovi 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 Tasto destro No Tasto destro Si muove Ehm B Miniera Centro ricerca Centro di comando Mantegneri insufficienti Intelligence Produzione Wunderfaff Tutti Non è che ci vanno da soli Vediamo Aumentiamo il tempo Giorni Poi dice che c'ho 20 persone Eh Questi Non vedo mini Ehm 40 di ferro 80 di oro Dai Facciamo la fabbrica Del cemento Anche se Non ho La metteremo Qua accanto Anche se Non ho capito Ehm La madonna Gigante La fabbrica Del cemento Gestisci la produzione Ricette È una Ricette È una selezione Di ricette Quando si Seleziona una ricetta La si raggiunge Si aggiunge Alla cosa di produzione Le risorse Necessarie Per la produzione Saranno trasferite Automaticamente Dai magazzini La produzione Inizia nell'ordine Di date scelto Quindi Programmane Attentamente La continuità Ottima traduzione Infinito La ricetta Sarà realizzata Fino a quando Non saranno esaurite Tutte le risorse Necessarie Per la produzione Volete Massimizzare La produttività Pianificata Al meglio L'ubicazione Dei magazzini Sviluppa Nuove ricette Nel centro Ricerca Ok Recupero Delle risorse Il 25% Sarebbe Ficus Metallurgia No No Vediamo Vediamo Quanta Roba Abbiamo Esercito Soddisfa Soddisfa Bomba nucleare Aunebu Che cosa vuol dire Aunebu C'è C'è Abbiamo pure Craft Star Trancla Clamone Non No Craft Stra Canone Craft Aggiungere Personale Ora Qua ce l'abbiamo Stoccaggio Produzione Produciamo 20 kg Di cosa Ci danno 20 Di questo Che non lo so 20 kg Di cemento Sono uguali A 15 kg Di questo Magazzaino Ok Armature E non Aspetta Però c'ho l'ora Adesso Dovrei fare Gli alloggi Minerali Di rame Ah Posso fare Lo spazio Di stoccaggio Con quello Sì Il problema Che è Un po' Tutto fermo Quindi Non so Se Accel Ah Adesso Stanno Lavorando Lì Vedo Due In magazzino Però mi dice Che non c'è La personale Qua c'è Due persone Non è che Questi Non ce la fanno A muoversi Sotto E se ne fa Uno spala E l'altro Pulisce Ah Vabbè Tra 34 secondi Dovebbe 30 secondi Dovebbe arrivare L'altro Coso Forse Dico Forse Io mi farei Così Non posso Inviare A fronte Nulla Tra l'altro C'è Fronte Nella 76 giorni Fronte Centrale 76 giorni Ci sono Gli attacchi Ne siamo qua E qui invece Siamo nella scienza Ma ci sembra Aurifero Ho arrivato Un treno Cosa ci ha portato Il treno Oro Ma oro Ce l'ho Oro Tubi Bobina Profili Cavo Bobina Di rame 50 bobina Di rame Quindi possiamo Fare gli alloggi Finalmente No Minerale Di rame Ferro Magazzeno Questa Fabbricazione Per le ricette Da lì facciamo Il minerale Di rame Subito Vai Se io faccio così Aumenta più veloce Sì Granzo 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 Fabbricazione Ok Oh la la Adesso posso fare Cemento Pietra frantomata Ma se imbastisce Cemento Tutti Tutti cemento E 20 kg Facciamo così Non posso Eh Signori Io Direi che Spengo Accendo Spengo Gli uomini ci sono sempre Accendo Non so come Dirgli alle persone Di lavorare Credit Feedback Bla 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 Classifiche Makusuo Fute 471 Vabbè Ritorno al gioco Eeeh Quindi Spazio di stoccaggio O vuole lo spazio di stoccaggio Quindi questo Vuole carbone 20 Se io vado qua Carbone Non lo posso fare Cioè posso fare Solamente Da pietra Disponibile Zero Disponibile Zero 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 Perché questa Non parte Quindi C'è solo Rimuovi E basta Ah qua c'è Ah aspetta Aspetta No Qui c'è No non è questo Pensavo fosse Cliccabile Penso che abbia Cliccato ovunque Io Doppio clic No Non lo so Quindi Eeeh Signori Io direi di chiudere Con questo punto interrogativo Sul fattore Di come Aggiungere Persone A questi luoghi qua Perché io Non lo so Assolutamente Fatemi sapere Nei commenti Mappa di guerra Non c'è nient'altro Eeeh Se fatta una certa Abbiamo passato Già Buona parte In attesa di questo Dilemma Quindi Non lo so Uno Se io li conto Sono pochi Ma non credo che siano Quelli visibili Questi cosi non solamente Animazioni E texture Già fatte Quindi fatemi sapere Naturalmente Vi lascio il link In descrizione Se vi fa piacere Questo gioco Solo il link Di steam Eeeh Come sempre Non lascio un commento O un feedback Su questo gioco Perché è una preview Ma ne diriverà Deriverà Oddio Dislessia Ne diriverà Una serie E se vi va Iscrivetevi Sono sempre Ben accettate Le iscrizioni Per far crescere il canale Lasciate un like O un commento E come sempre Siete medici Alla prossima Bye bye Peace Peace Siete medici